Leonardo Silva Revisore Come identifichiamo noi una persona di successo? Mi sono fatta questa domanda venendo a Matera perché ho pensato di salire su questo palco e parlare di qualcosa che nessuno conosce. Quindi mi sto confrontando con una piattaforma sulla quale sono saliti architetti, matematici, scrittori, giornalisti, persone che, insomma, ci hanno da dire qualcosa. E quindi mi sono sentita veramente, nonostante la stazza, mi sono sentita una nannetta fra giganti. E ho pensato, ma come posso calcare lo stesso palcoscenico di queste persone così, di talento, no? Poi mi sono resa conto che con loro condivido la passione e l'amore per il lavoro che faccio e l'entusiasmo che ci metto ogni volta che mi confronto con un nuovo cliente. Perciò ho detto, ma sì, ma in fondo posso parlare anch'io al TEDx. Il Feng Shui, purtroppo, è un argomento che è poco noto. Quindi, chiaramente, non vi potrò spiegare questa disciplina in pochi minuti perché è veramente molto complessa. e affonda le sue radici nella Cina millenaria. Quindi immaginate che alla base ci sono filosofie importantissime, tra le quali la filosofia dei cinque elementi, lo yin e lo yang, l'almanacco lunare. Quindi nel Feng Shui convergono tante cose. Ma in realtà è uno strumento di decodificazione delle percezioni sottili. Immaginate di entrare in uno spazio nuovo mentre andate a trovare un amico che ha cambiato casa e entrare in una casa che non conoscete. e quindi avrete il dubbio di uno spazio nuovo. Vi troverete a contatto con qualcosa di nuovo. Ecco, immaginate di entrare in questa casa qui. Questa è la casa di un mio intervento a Milano. Voi avrete sentito qualcosa. Magari si tratta di una sensazione sgradevole perché quella casa non vi piace. oppure una sensazione gradevole. Questa capacità di ascolto è fondamentale. È alla base della sopravvivenza. Quindi state facendo Feng Shui senza saperlo. Bravissimi! Ora, è chiaro che non è così semplice, però attraverso il lavoro con il Feng Shui si può capire che cosa c'è che non va nella nostra vita, se ancora non ce ne siamo resi conto da soli. Questa casa appartiene ad un uomo sulla cinquantina fiscalista di un'azienda petrolifera in Congo. Era sicuramente una persona di successo, se consideriamo che aveva la macchina con autista, un attico con vista favolosa, stipendio a 4-0. Quindi sicuramente non stava male, ma ha cominciato ad avere un certo disagio e a non sopportare più la vita che stava facendo. E diciamo che ha cominciato anche ad ammalarsi fisicamente. Ascoltando questa sensazione non positiva, lui si è fermato e ha voluto dare ascolto a quello che non andava bene. e allora ha smesso. Si è trasferito a Milano e si è fermato in attesa di capire cosa fare. Poi tramite conoscenze mi ha contattato e abbiamo lavorato insieme. Ora, lui è stato bravo fino a un certo punto, ha lavorato da solo, a capire che c'era qualcosa che non andava. In casa sua io ho spostato il tavolo. Vedete dalla foto? Il tavolo prima era in mezzo alla stanza e adesso invece è appoggiato alla parete. La colonna rossa serve in quella casa lì per, diciamo, smuovere le situazioni e adesso è uno chef vegano. Quindi chiaramente ha fatto una rivoluzione totale, no? Ha cambiato completamente lavoro, ha cambiato vita. eppure oggi si sente soddisfatto, è felice, è sano. E quindi, dal mio punto di vista, è una persona di successo. Chiaramente lui è stato bravo perché ha dato spazio al movimento, a quel moto interiore che lo ha portato a vedere che dentro di sé c'era qualcosa che non funzionava. in effetti il movimento è il cardine del significato di questi due ideogrammi che sono il vento e l'acqua che in natura, più degli altri, rendono manifesta questa capacità di muoversi delle cose. È vero che si muovono anche i ghiacciai, anche le montagne, la terra si muove. Però il vento e l'acqua sono associati anche alla vita. Immaginate una terra senza vento. Il polline non potrebbe spostarsi, quindi non ci sarebbero fiori né frutti. Immaginate una terra senza acqua. Noi non potremmo esistere. Quindi insieme al movimento c'è anche la vita. E che cosa succede quando noi invece ci fermiamo? Per paura, per ansia ci blocchiamo, ci irrigidiamo e alla fine ci spezziamo. Quindi nel Feng Shui il lavoro consiste soprattutto nel rimettere in moto il flusso di energie all'interno della casa, ovviamente, ma soprattutto nella nostra vita. Quindi, facendo questo lavoro, le persone lavorano su se stesse ed iniziano un percorso di consapevolezza. Io ho scelto questa immagine qua perché rappresenta una strada d'inizio di un percorso, una strada nel bosco. E mi ha ricordato vagamente Dante, anche se ovviamente non possiamo paragonarci al sommo poeta, però mi ha ricordato la fatica che si fa nell'affrontare se stessi. È un vero lavoro. Io ai miei clienti chiedo un atto di coraggio sempre, no? Un atto di fede no, perché non bisogna credere nel Feng Shui. Ma un atto di coraggio sì, perché le persone devono abbandonare l'attaccamento a quelle false sicurezze e lasciarsi andare per scoprire i veri talenti, i veri tesori che ci sono dentro di noi e dare ascolto a quella voce che è solo il movimento dell'anima che vuole crescere, vuole avanzare, si vuole espandere. E quindi diciamo che nel momento in cui qualcuno mi chiama e mi chiede aiuto, io non faccio altro che fargli da specchio e attraverso l'analisi della sua carta natale con l'oroscopo cinese e l'analisi della struttura della casa rendo evidente quali sono le cose che dovrebbe aggiustare, i temi su cui lavorare, perché magari non è stato facile per questa persona rendersene conto da sola. E quindi per me la persona di successo è questa, cioè quella che è stata capace di ritornare a riscoprire non il bambino interiore ma proprio il bambino, il bambino che noi eravamo e che era puro, entusiasta, gioioso, capace di affrontare la realtà senza paura perché la paura è solo un'idea invece dobbiamo avere fiducia nelle nostre capacità andare avanti e niente è impossibile per quelli che ci credono e per quelli che si mettono in moto per gli altri purtroppo li lasciamo alle nostre spalle. Grazie. Grazie.